ciao a tutti nella mia pagina say it in english please troverete frasi scritte in inglese tutte correttamente tradotte in italiano nella traduzione in italiano tutte le volte che la parola inglese viene riportata così come nel lessico della lingua italiana verrà evidenziata in rosso vedete lockdown off limits e viene anche spiegato il significato delle parole contrassegnate in rosso ho evidenziato in rosso termine off limits per dargli più risalto con off limits si intende 1 in origine di luogo in cui accessa la vedrà dei militari americani delle truppe di occupazione per estensione di luogo in cui è proibito l'ingresso o il transito 2 senso figurato proibito vietato definizione del lemma preso da la repubblica questa traduzione in inglese per gli amici non di lingua madre italiana sono pagine e pagine di frasi in inglese tradotte in italiano abbiamo care leavers per care leavers si intende qualsiasi neo maggiore che ha trascorso del tempo in custodia da bambino cioè in età inferiore ai 18 anni tale custodia potrebbe essere in affido assistenza residenziale principalmente a casa per bambini o altre strutture al di fuori della famiglia immediata all'allargata Allora. Ho usato tre colori per distinguere meglio le frasi. Ecco, ad esempio, there is no doubt that coronavirus remains a real threat. Non c'è dubbio che il coronavirus rimanga una minaccia reale. Tutte frasi di stringente attualità. Infatti il materiale è costituito da frasi che ho trascritto da inaudizione della BBC. Qui abbiamo blowpipes. I dei acchi sono la tradizionale arma da caccia dei dei acchi. I dei acchi sono una popolazione indigena del Borneo. Ora, queste frasi tradotte in italiano non rimangono a sé stanti, ma io ho elaborato un programma scritto in linguaggio Just Basic per poterle usare per perfezionare l'apprendimento della lingua inglese. E' un programmino così, streamezzito, però di estrema utilità. Qui abbiamo le frasi, vedete? Ok, ma andiamo in esecuzione, vediamo cosa accade. Questa è la schermata iniziale. English English Translation Trainer Advanced Level. Queste sono le istruzioni. Cominciamo dalla frase 1. Ecco, questa è la frase in italiano da tradurre. Nel text editor io andrò a scrivere la frase che da tradurre. Ad esempio, se io scrivo non lo so, boh, vediamo cosa accade. Inserisci la risposta. Adesso sei alla frase 1. Sbagliata la traduzione esatta di l'India è salvando la peggiore recessione degli ultimi 4 decenni. E' India is experiencing the world slump in 4 decades. Tu hai scritto non lo so, boh, adesso ho a disposizione 4 opzioni. Scegliendo la prima posso rieffettuare la traduzione. La seconda invece mi dà la possibilità di proseguire nella traduzione dopo averla sbagliata. La terza l'ha usata se ho tradotto bene. La quarta invece mi consente di ultimare la seduta di traduzione. Allora, traduciamo di nuovo. Allora, India. India is experiencing the worst slump in 4 decades. Vediamo se ho tradotto bene. Esatto, ho introdotto anche un ciclino quando la risposta è esatta. Allora, ho indovinato, quindi opzione 3, continuare dopo aver indovinato. L'India è diventata l'epicentro della pandemia a livello globale. L'india has become the epicenter for the pandemic. Scegliendo bene? Ecco, ho scritto male, vedete? Globally. A livello globale, globally. In italiano è una proposizione avverbiale, no? Mentre in inglese è un avverbio. Globally. Esatto. Continuare a... Before the pandemic, Singapore. Questo è il genitivo sassone. Change in airport. Se io ad esempio nella traduzione scrivessi airport con la lettera minuscola, mi dà l'errore anche avendo io scritto, tradotto la frase perfettamente, parola per parola. Terminal. Terminal. Brunicati e passiccieri. In inglese si usa il verbo to team with. Un verbo preposizionale. Was teaming with passengers. Virgola. Now. La verba ora è now. Quasi si usa il verbo hardly. Hardly anyone. Anyone perché il verbo conterrà la particella negativa. Se non contenesse la particella negativa usava un no one. Hardly anyone can be seen. In se esce la tua risposta, solo alla frase numero 3. Esatto. E così via dicendo ragazzi. Esco. E così via dicendo ragazzi.